Ecco fatto. Ok, sì, questo è... Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Dreamworks Mission presenta... In associazione con... Treehouse Comics Inc. Inc, 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 Inc. D'accordo, bene, ok. Allora, molti, molti, moltissimi anni fa, in una galassia lontanissima, c'era un pianeta chiamato Mutandonia. No, aspetta, aspetta, aspetta. Ok, va. Sì, questo è... ok. Mutandonia era un pianeta tranquillo dove tutti indossavano solo le mutande. Prima che cominciasse ad esplodere senza motivo. Nel frattempo, i capi di Mutandonia, Babbo Mutandone e sua moglie, la Contessa Coulon, salvarono il loro figlio tirando le sue mutande al massimo e sparandolo nello spazio. Buon viaggio, Mutandino! E lui si schiantò sulla terra dove fu allevato da bravi controlli. Questo te lo faccio io. Delfini? Sì, delfini. Ma secondami. Ok, va bene, bene. Cucu, caca. Tra la 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 la. Questo te lo faccio. Questo te lo... Questo te lo faccio io. È un uccello! È un aereo! È un panino con l'insalato di uova! Però lo sai, se non marcia! Più veloce di un elastico! Più potente di un baglio di pozzer! Non mi eziupperai mai, Capità Mutanda! Questo te lo faccio. In un uccello con i grattacieli senza ritrovarsi le mutande nelle chiappe! Ehi, va bene, buon per te, amico. Lo guardo dal telefono. Ha 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 ha! Scordatelo! Io lotto per la verità, la giustizia e tutto ciò che approva di lavaggio e di canneggio! Perché io sono... Capitan Mutanda! Questo è... Sì, questo sì. Le origini! Fighissimo! Avremmo dovuto farlo anni fa. Sì, tipo prima. Però sai, i delfini non mi convincono. Sì, lo so, è che non sapevo se fosse una cosa strana bella o strana brutta. Insomma... Le origini! Vi ho detto migliaia di volte di non disegnare questi stupidi... Stop! Ehi, ciao! Ecco... Un secondo. Io sono George Beard e lui è il mio miglior amico Harold Hatch. Ehi! Accidenti! Tranquillo! Abbiamo tante idee! Vedete, Harold adora disegnare e io raccontare storie. E questo vecchio tutto rabioso qui, beh... Lui è il peggior preside del mondo di signor Grugno! Vecchio perfido signor Grugno! Odio ogni cosa divertente! I fumetti! La ricreazione! Sì, questo è... Il Natale! Oh, 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 oh! Anche inizio! No, ti prego, ma ho fatto veramente! No, non tecnicamente! Ma avrebbe potuto! Scusa, sono arrabbiato per il fumento! Sì, anch'io! E... azione! Il mio ucciso! No, 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 no!